Prenderà il via sabato 28 novembre con l'accensione dell'albero il Natale in città 2015 del Comune di Pordenone. Musica, teatro, culture, mostre, laboratori per bambini e solidarietà accompagneranno i pordenonesi e i loro ospiti fino al 10 gennaio per vivere assieme gli aspetti più belli delle festività natalizie. Sindaco Claudio Pedrotti, ancora un Natale da passare insieme con il Comune di Pordenone con tante iniziative in città. Ancora una volta il vero punto di tutte le nostre manifestazioni sono i bambini, le famiglie, i bambini e i loro genitori. Un Natale comunque, visto l'obiettivo, i bambini, visto che i bambini ci portano serenità e felicità, che ha questo come vero copione e come sfondo. Claudio Catarruzza, siamo pronti per il Natale. Si comincia quando? Ci sarà un prologo il 27 con il Black Friday per negozi aperti, ma la vera e propria inaugurazione ci sarà il 28 dalle 17 con l'accensione dell'albero, l'intrattenimento comico o semiserio dei Papu e un grande concerto della Abba Tribute Band, cioè musica che coinvolge un po' tutti e che deriva un po' da quello che è stato uno dei musical più visti e seguiti in campo internazionale. E' ancora grande musica il 31 di dicembre con il concerto di Capodanno, di fine anno, con l'Aida Dani e il suo gruppo, che ci faranno passare una serata, speriamo, spensierata, con una grande musica, con una grande voce femminile. Il mercatino in piazza 20 Settembre è a cura di sviluppo e territorio. E noi stiamo cercando di portare avanti questo progetto, che è un progetto non di casette, fine a se stessi, ma di marketing del territorio. Quindi abbiamo preteso e abbiamo chiesto che fossero fatti dei progetti di promozione dei prodotti del territorio e sono stati anche premiati i migliori, perché avevamo il doppio delle domande rispetto alle casette che ci sono e hanno vinto solo i progetti migliori. E poi ci sarà anche una verifica che ci sarà una commissione che girerà per le casette per valutare che quanto hanno scritto nel progetto venga poi effettivamente somministrato nelle casette. Grazie a tutti.